Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questo nuovo video su Crash Royale da Antonio e Marco Come potete vedere abbiamo fatto un nuovo team, il team di Durotan, non siamo più nelle pecore Se volete potete iscrivervi perché è un team aperto Lanciamo la prima amichevole della giornata Io ho messo il deck più pesante, lui si vuole tenere il suo deck Io ho un deck un po' più leggero, perché mi trovo con le carte rapide, preferisco quelle No, io userò il più pesante per il video Cominciamo Vediamo che cosa mantiene in campo, subito il dis... No, no, ho sbagliato Vai, Valkyria, distruggi quello scheletrone Quanto cavolo odio quello scheletro? Ehi, ehi, ahhh, sgherri Subito ti sei messo con quelle più potenti E le più potenti sono quelle più pesanti Barue Goblin Il mio fido è Barue Goblin La mia carta preferita La mia fulmina Che distrugge tutto Addio Goblin Vediamo se la sfera infuocata riusci a prendere la prima torre Mai Ancora niente Perché io sono più resistente Iniziamo a buttare qualche Goblin, lanciera Io mando un pecca A distruggere tutto Spero che riesca a distruggere Perché il pecca non è molto resistente È un peccato che verrà ucciso dalla mia valkyrie Non verrà ucciso Perché io ho ucciso la tua valkyrie prima Ma hai capito la battuta? Pecca, peccato? Sì, l'ho capito Guarda Lasciate le mie battute stupende Tipo qua dall'ultimo video Stendiamo un vero pietosso Vai, Barile Goblin Vai, Razzo Distruggere la sua orda I schermi Prima torre andata Che diavolo Vedi che il mio Barile Goblin Barile Goblin Barile Barile sempre quelle cose La grande differenza Barile e Barile Beh, più o meno sempre Contengono cose Quindi alla fine Dai, principe Io ho di principe Perché non lo so utilizzare Però l'ha sbloccato Negli ultimi giorni Perché ho avuto una botta di cura E mi è uscito di principe Ragazzi Se Se riusciamo A Se riusciamo Se noi Questa è roba nostra Riusciamo a trovare soldi Compreremo un pezzo per Nintendo E faremo Kibib Planet Robot Ah sì Dobbiamo ancora Capire bene Come fare la registrazione Perché abbiamo preso Kibib Planet Robobot Per la 2DS Sì La 2DS Che 3DS Costa un po' troppo No Più che altro Perché la 2 e la 3DS Dicono che per i bambini Non è tanto adatta Perché potrebbe rovinare la vista Quindi per sicurezza Meglio la 2 Già Il fatto che sto allergico Al polline In questi giorni Sto 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 Fisso A grattarmi gli occhi È vero Meglio non sforzare gli occhi Con queste tecnologie Qui E adesso sto bene Quindi ne approfitto un po' Stai notando Che te sto a distruggere La seconda torre Lo so Però Non so Riusci a difere Allora Già è tanto che ti ho difeso Non è importante Che ho perso Ma ho difeso abbastanza Ho sprecato un po' Troppo di sì Per difendere La prima vittoria È mia Adesso metterò Il mio deco ufficiale Che sarà uno dei più forti Sì Così facciamo la seconda partita Ragazzi Facciamo la meglio di tre Quindi facciamo Facciamo tre partite Se la prossima Nel tuo video Abbiamo fatto cinque partite Facciamo così La meglio di tre Che è qualcosa di più Cioè nel senso Facciamo tre partite La prima l'ho vinta io Se la vince la seconda La vince lui Andiamo a fare la terza di spareggio Altrimenti Figliamo su due Il mio prossimo deck Sai deck Solo di scheletri Beh Dovremmo Vi avvisiamo che Dopo l'aggiornamento Che c'è stato Hanno messo I scheletri A tre Non più a quattro Allora La preparo con L'arena due Pozzo delle ossa Visto che si parla di scheletri A mio favore Arena Vediamo un po' Oh, e quando non so, Chris? Chris, ricorda? Ragazzi, più che in area 4 che sono in retrocessione ancora non riesci a trovare lorda i scalatri E perché sono sfortunello? Non ho più carte che io Dai, dai, fido principe Vai, lapide Distruggi Che due colpi te lo distruggo Mettiamo un bel draghetto qui Anzi, mettiamo una bella Valkyrie Non si può dire, anzi se già ho messo quello Vabbè Le tue frecce saranno inutili Butta, 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 butta Distruggi tutto Distruggi tutto Antonio Non fai nessun commento sulla partita? No Perché di cosa sta andando benissimo Ti stai concentrando? Sta andando benissimo, per me Andiamo se la mia opera da dis... Ho già quasi distrutto tutto Sì, sì Quasi Ah, io ho quasi distrutto tutto Oddio, povera C'è la frecce nella mano Andate, miei figli di Goblin AG Vedi quanto sono veloce? Ah, le guia E io li distruggo subito Io voglio provare a fare una tattica diversa questa volta Io mando solo dei scheletri Iniziò ad attaccarti Inizio ad attaccarti l'attattatore Tattica non molto buona Eh, ecco la mia valcina Ti faccio a pezzi Ti faccio Ti faccio a pezzi Adonami quanto Che è il mio scheletro gigante Quando distruggo la bomba Fa 729 di danno Stava scritto nella statistica Andiamo sull'altra corsia Sfera infuocata Ecco la gana Tattica E' andata Andata Ordei scherri Vai, draghetto Oh, oh, oh Le torre E' qui vicino Le torre Ehi, non scherziamo Scherziamo, scherziamo Ti distrugge Ma scherziamo Non mi è uscita La tattica Oh, ma mi se può Madonna mia Quanto odio Vai, bariche Ho detto bene questa volta? No Ah, bariche, sì Dai, dai che ho vinto 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 Dai che vinciamo Non vincerai Dai che vinciamo Sparate, sparate, sparate Sparate, sparate Sparate Distruggi, distruggi, distruggi Lapide A livello 7 Non so perché A livello 7 Ma me la ricordavo A livello 7 Ma questa sì Che è un orde Che è un orde Era un orde Dai, dai Che ho vinto Anche questo Mi sta a distruggere Questo Dai che ho vinto Anche questo Mi sta a distruggere Eh, no Madonna che è difesa Se non difendo bene Eh, mo ti mando il principe Mo sono problemi tuoi Oh Oh Alchiria Ma hai letto i bombaroli Cioè Io ti faccio vedere Schiavo tutto in difesa Stai usando la sua tattica Do coio coio E poi un nome È un po' strano Dici Conosciuto Mi sono conosciuto Dai che ho vinto Ho vinto Ho vinto Ho vinto Vittoria Facciamo un'altra partita? Va bene Sempre il stesso deck? Eh, no Io ho sbagliato Ho sbagliato pure a cliccare Ho cliccato la battaglia normale Scegli il deck Scegli il deck Nel frattempo Marco mi metterà un video Di qualche amichevole Se vuole Sto guardando un po' il deck Ragazzi che dite Proprio questo deck pesante 4 e 9 Io ho 5.3 Posso arrivare fino Posso arrivare a questi livelli Di cv.3 Ragazzi Se volete Nel prossimo video Porteremo a Bomb Squad Oh ma non stai facendo Scrivete nei commenti Bomb Squad Oppure qualcos'altro Oppure La Clash of Clans Andiamo nel frattempo Hai preparato sto mazzo? Andò Ho sbagliato anche che ho fatto A battaglia No Mettiamo un attimo In pausa la registrazione Facciamo un taglio Facciamo una pausa Rieccoci dopo una breve pausa Facciamo un'altra partita Un'altra amichevole Io ho cambiato il deck Andiamo sull'arena dei barbari Andiamo sull'arena dei barbari Ok Andiamo a tre Ho messo un deck molto pesante Vediamo questa volta che cosa Ho messo un deck molto rigido I deck che piacciono ad Antonio Sono questi Vai Tesla Ma è stata già di sto giornale Ma è molto delicata Sta 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 Sì La torre di Zeus Zeus Si chiama così La torre di Zeus No 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 Intanto te sto a fare la prima torre Come non ho detto Iniziamo con i ranzi Va Distruggere Ah sono tanti con il tranzo Se avevo lungo il lasio di distruggere Eh no Ho detto Iniziamo a copiare lì così Vediamo un po' Vai l'uomatore di cinghia Idafarsi Vediamo un po' idafarsi Inseguitelo Inseguitelo Ah è stata tattica Oh eccomi Tornate indietro Cioè ha rinunciato a inseguirmi Sono un po' pigri i tuoi cavalieri I tuoi cavalieri sono un po' pigri Ha rinunciato a inseguirlo Anche i miei peccati sono così Sono questi uguali Se di testa Se mettiamo doppia torre Come succede Più in strage Se ciò spriamo Può coprire tutte e due facce In una strage Però non ce l'ho Purtroppo Solo è freccia Però è già andata giù Proprio abbiamo fatto un ottimo acquisto Le torri sul tempo Tipo la Tesla 40 secondi dura No no questa è proprio distrutto Non so se li notate Sì la torre infernaia sì Andiamo col domatore di cinghiali Sulla corsia destra Tocca l'olio Sì scheretri Intanto io metto un cavaliere Andate i miei fili sgherri Metto altri scheretri Che non servono a niente Io metto la torretta Tesla Io li distruggo i sgherri Distruggi distruggilo Distruggilo E metto altri goblin Altri scheretri Mi faccio io la stagione Cazzo è il canzone Non lo so Era un misto tra i fune Il corteo fune Il mio gigante di scheretro E' morto Scheretro gigante E' morto Sì scheretro gigante Sì scheretro gigante E' stiamo pareggiando Se non l'hai notato Ma io ti faccio dire Ti ho distrutto Mi hai distrutto Sì Sto difendendo Un po' troppo male Sto difendendo Piazziamo anche qui una torre infernale In difesa Che non serve a niente Che non sto difendendo Non bagniamo No 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 Siamo 2 a 1 Prossima partita No so Scriviamoci il video No Chiudiamo così Bene allora amici Ci vediamo al prossimo video Mettete mi piace Sporriciate Condividete Iscrivetevi Iscrivetevi E diffondete il verbo Alla prossima Lunga vita e prosperità A tutti quanti Da Marco E Antonio Viu